Bene, adesso ci occupiamo di lavoro, abbiamo visto situazione piuttosto pesante, critica nel distretto di Montebelluna, ma per fortuna in tempo di crisi vi sono anche aziende che continuano ad assumere. Ven'è una a Monastier in provincia di Treviso con oltre 400 dipendenti, azienda che produce strumenti per la diagnosi dei veicoli che sta continuando per l'appunto a fare assunzioni e abbiamo voluto visitare con Diana Paoli questa azienda per capire l'importanza di scrivere adeguatamente il proprio curriculum. Quindi attenzione per chi sta cercando occupazione, qualche consiglio utile per l'appunto nel servizio di Diana Paoli. Buongiorno Regione, oggi parliamo di lavoro, ci troviamo in un'azienda di Monastier di Treviso, leader nel settore della produzione di strumenti diagnostici per le autovetture. Un'azienda in continua espansione, 404 dipendenti, ma sono in programma ulteriori assunzioni. Ne andiamo a parlare con il presidente e con il direttore delle risorse umane. Nonostante il momento di forte crisi economica, questa azienda va molto bene, siete riusciti anche ad assumere molte persone quest'anno. Qual è il segreto? Innanzitutto noi siamo in una nicchia di mercato e su questo fronte non ci sono tante aziende che costruiscono dei prodotti adeguati. L'elettronica dell'automobile è una cosa abbastanza recente perché è nata circa 15 anni fa e quindi non ci sono scuole che preparano persone adeguate a questo scopo. E così tra l'altro siamo costretti a crearci noi la scuola interna per preparare le persone per lavorare in TEX. Lei che è direttore delle risorse umane, da che cosa viene colpito soprattutto in un curriculum? Innanzitutto sono particolarmente colpito dall'ordine e dalla chiarezza espositiva sia di dati inagrafici sia del percorso professionale. Noi riceviamo di media 10 curricula al giorno, sono ci oltre 2.000 in un anno. Le capita di ricevere anche curricula incompleti? Assolutamente sì, mancano dati inagrafici, mancano numeri di telefono e senza questo non è possibile contattare la persona e quindi sono curricula destinati ad essere cestinati immediatamente. Chi è interessato alla vostra azienda può anche prendere informazioni sulle posizioni aperte tramite il vostro sito internet, vero? Assolutamente sì, nel sito www.texa.it nella posizione lavora con noi può trovare tutti i profili che stiamo cercando e qui il candidato, l'interessato può inviare il proprio curricula compilando la scheda. Ho qui entrato con che tipo di contratto? Sono entrato con un contratto di apprendistato che è durato 3 anni e poi è passato subito all'indeterminato. Che studi ha fatto? Ho fatto un percorso di ingegneria informatica di 3 anni. Lei per entrare qui in azienda ha fatto anche un corso di formazione specifico qui? Sì, ho fatto un corso specifico di un mese e poi ho fatto uno stage interno all'azienda. Rettribuito? Sì, esatto. E poi? Poi ho avuto il contratto di assunzione. E come ha fatto ad entrare? Ma avevo un amico che è attualmente ancora un collega di lavoro che mi ha detto che l'azienda era in fase di forte espansione. Ho fatto richiesta, ho mandato il curriculum e poi ho fatto due colloqui e poi al fine sono arrivato a lavorare in tax. Soddisfatto? Sì, sicuramente.